Francesco Graziani non posso non chiederle un commento su questi europei che l'Italia sta giocando per ora alla grande e se l'aspettavo in Italia così? Alla grande non esageriamo, noi siamo... I risultati sì. Sì, risultati ottimi, risultati ottimi, prima partita bene perché giocavi contro una buona squadra anche se davanti era una squadra spuntata al Bergio perché Lukaku mi ricordava la brutta copia di Galloni, di Egidio Galloni, ma però bene, la prima partita col Bergio bene. La seconda meno bene. Ma lei lo sapeva che per lei si chiama Graziano di nome in onore a Francesco Graziani o l'ha scoperto dai giornali? No, no, l'ho scoperto dai giornali in un'intervista del papà un anno fa quando lui esordi in nazionale e disse si chiama Graziano perché io ero un tifosissimo di Graziani e mi piaceva da morire, non potendogli mettere il nome Graziani ho trovato Graziano. Tra l'altro ho cercato di rintracciare il papà, poi non ci ho perso tanto tempo perché avrei voluto ringraziarlo, ma va bene lo stesso. E invece lo sa, se lo ricorda, che Giaccherini, che è un po' il personaggio del momento, ha giocato nelle giovanili del suo Arezzo quando lei era presidente, era il Tassinari responsabile delle giovanili e che poi è rimasto un anno solo e poi è tornato a Bibieno. No, ma questo non me lo ricordo, me lo stai dicendo tu? Io non l'ho mai saputa questa cosa qui. Da una parte mi fa piacere, da una parte mi rammarica perché molto probabilmente ci abbiamo capito poco, ma sai, con i giovani tante volte non è facile indovinarli subito. Poi lui ha un fisico piccolino minuto, quindi magari a quei tempi era meno appariscente rispetto ad oggi, però sono contento che nel nostro piccolo forse un pizzico di fortuna gliel'abbiamo portato anche noi.